L'Europa si fa stando insieme alle persone Unita, forte e solidarie Nous avons besoin, mes amis, d'inventer une nouvelle plateforme De l'inventer dans chacun de nos pays Because we are the party of Alperio Spinelli We dreamt of a united continent as the only way for peace And for the prosperity of the working class Il gruppo parlamentare S&D, questo gruppo parlamentare Partiamo da una dichiarazione che non è perfetta Quella sottoscritta questa mattina in Campidoglio Ma c'è un paragrafo in quella dichiarazione Che porta il nome, il simbolo dei socialisti Ed è il paragrafo dell'agenda sociale Senza popolo non si vince nessuna battaglia Ma il popolo c'è Se vede che ci sono forze che sono coerenti e tenaci Nella battaglia che intendono perseguire Ma vogliamo assicurare che la idea europea S'è un paragrafo davanti Per noi questo significa più jobs ma anche più jobs Sociale protezione per tutti Strong focus on young people Perché loro devono la battaglia E poi abbiamo anche bisogno di assicurare che Europea è capito con la richiesta di riflessioni Respecto di risposta di risposta di risposta di risposta E assicurare che lavoriamo con i nostri partneri in il mondo Per sviluppo e peace Non siamo limitati in sovranità Per essere europei cittadini C'è l'extensione di sovranità E noi abbiamo bisogno di più democrà E noi abbiamo bisogno di partecipare E noi abbiamo bisogno di partecipare Direccii in una decisione di processo A l'europa livello Le nostri MAP e le nostri SND MAP Sono forti e lavoriamo con il gruppo Forse noi in Europa Ci sono in fronte di Roma Per dimostrare che pro-europeans hanno una maggiorità all'Europa Questo è importante oggi E per la prossima settimana to come.